Se la va a finire male secondo me Che cazzo è? No 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 che cazzo è? Porca puttana Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Adesso andiamo a vedere delle cose veramente incredibili Seguimi Allora abbiamo Abbiamo comunque i microfonini per parlare Così Dato che vi do alle spalle si dovrebbe sentire qualcosa Allora Iniziamo con l'esplorazione Siamo in una zona assai brutta A mio parere Cosa dici passiamo adesso via per di qua Proviamo ad andare a vedere di qua intanto Ragazzi vi ricordo lasciate il like sotto questo video Se volete altri contenuti di questo genere E mi raccomando iscrivetevi al canale Cioè ha preso fino i microfoni addirittura Con i soldi del canale Andiamo a vedere Che cazzo è? Qua ci sembra tipo Mamma mia Oh Poi se dire che puttana Porca miseria Vabbè Cosa è successo? Ma che puttana? C'è una puttana incredibile Ragazzi qua è tutto abbandonato C'è boh Ma quella lì è tipo una centrale per la corrente Di qualcosa Tipo dell'acquedotto Non so di cosa Ok Iniziamo la nostra esplorazione direi Sperando che qua si possa passare Teoria solo erba Tu seguimi Ok Qui c'è un percorso Qui c'è un percorso che le persone hanno già fatto Potete vedere? Allora Stiamo adentrando ragazzi in un bosco Non so quanto sia da ridere questa cosa Però tu fai strada Cosa dobbiamo dire? Tu seguimi Tu seguimi Ok Dice Oh mio dio Cosa c'è? Si vede dal video? Cosa c'è? Guarda Ci vede qualcosa? Che cazzo è là? Cosa c'è? Non lo so Andiamo Come puoi vedere comunque per terra Ci sono già le impronte C'è già tutto Boh Vuol dire che una persona c'è già passata Vabbè Sto lasciando qua Hai sentito? Cosa cazzo è? Oh Cazzo è la Ma hai visto? No 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 Ma hai sentito? Ho sentito Che si muoveva qualcosa Guardate qua Non è forse meglio cambiare zona ragazzi Andiamocene via Seguimi sempre mi raccomando Eh Ragazzi abbiamo inciso di cambiare zona Perché lì abbiamo sentito dei rumori Veramente strani Che Comunque siamo stati in concordanza Di cambiare zona Perché faceva veramente paura Cosa dici? Sì sì sono d'accordo Era abbastanza Blosca come Come detto Sì più che altro Rischiavamo anche di trovare Di andare in mezzo a Sì di tossici Comunque delle persone Magari Stanno facendo qualcosa Non lo so Comunque Comunque La cosa strana di questo posto È che sembra tutto distrutto No Vabbè Tutto ok Ascolta Lì c'è un varco Sì Che mi hanno detto Moltissimi di andare a esplorare Ok Lì Andiamo nel varco Andiamo a vedere ragazzi Cosa c'è Mi raccomando Iscrivetevi Per il coraggio Per il coraggio Che stiamo facendo Solamente per voi Solamente per voi Solo per voi Allora 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 Fermi tutti Tanto stai attento Perché qua Come potete vedere Passano veramente tantissime persone Tantissimi Rifiuti Esatto Esatto Sì Ma anche tipo Tantissimi barboni Eccetera Eccetera Ok Barboni Ok 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 Qua c'è lì Qua c'è Come vedi c'è un percorso Da poter seguire Lo vedi? Spero si vede in video Si veda qualcosa Comunque Ok Forse Sai cosa? Forse era meglio La zona di Fuso Questa qui è ancora peggio Vabbè Comunque Io seguo i vostri Consigli nei commenti Di andare in cerca Su queste cose qua Ok Allora Ok Proviamo A addentrarci Via per di qua Però C'è Non so Troppe spine ragazzi Non so se si riesca Vale Che cazzo è? No 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 Che cazzo è? Oh 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 No che cazzo è? No oh oh Cos'era? Ah Si ha sentito in video? Penso di si Era abbastanza forte Era tipo un urlo C'è qualcuno? Non c'è anima viva qua Eh che faccio? Cioè andiamo via Cioè andiamo via Che cazzo vuoi fare? Andiamo via Eh per forza Comunque sembra Proviamo Cioè Andiamo Se dopo veramente c'è ancora Io scappo Cioè non lo so Sinceramente Ma spero Si sia sentito qualcosa In video No Sicuramente adesso Non lo farà Ma mi spieghi Che cazzo Di suono era Tipo un urlo Si Lo facciamo C'è qualcuno Non mi risponde più C'è qualcuno Guarda guarda Che si muove Guarda 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 C'è qualcuno Io so Può essere una persona Dai Cioè che Che stiamo a dire Ma come che ci sia No non penso Se si sente Troppo distante Comunque ragazzi Vi giuro Magari faccio Amplio Vedo di fare qualcosa Eh non so se la fai Eh un frusci Che non lo senti Questi qui Si sono dei frusci Veramente particolari Comunque Che torniamo No perché no Non me ne vado Perché no D'asera ci facciamo Del male Comunque Ma io scappo No no D'asera D'asera va a finire male Secondo me No perché qua c'è Nudiamente c'è qualcuno C'è qualcuno Andiamo a vedere Dai Dai Devevi essere coraggiosi Devevi essere coraggiosi Che la vita è una no Si Ok C'è qualcuno Porca put***o No Ma stai sversando No no Vai via No no Vieni qua Vieni Basta No ce ne andiamo No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Grazie a tutti